Ciao ragazzi, ciao, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Ero qui che stavo preparando la formazione per stasera e stavo riflettendo un po' sui social, su Facebook, su Instagram, insomma i due principali, anzi adesso si chiama anche Meta, i due principali social che noi stiamo utilizzando. E mi sono reso conto di una cosa molto importante, secondo me, che magari a volte si sottovaluta, no? Il fatto che molte persone mi chiedono, ma caspita io non ho risultati, non ho risultati sui social, non ho interazioni, ho pochissime interazioni, e questo succede, assolutamente succede. Allora mi sono posto delle domande, no? Mi sono posto delle domande e mi sono chiesto, ma hai un obiettivo chiaro? Hai veramente un obiettivo chiaro? Se hai un obiettivo chiaro, allora incomincia da lì, incomincia veramente da quello, no? Se hai un obiettivo parti e vai. Poi, seconda domanda, perché tu stai pubblicando? Perché stai facendo un post? Ok? Quindi se tu hai un obiettivo devi anche sapere qual è il perché tu stai pubblicando. Stai pubblicando perché vuoi far vedere la tua vacanza? Stai pubblicando perché vuoi far vedere il tuo paio di scarpe? Stai pubblicando perché vuoi avere nuovi followers? Oppure stai pubblicando perché vuoi intrattenere la tua community? Può anche essere. Oppure stai pubblicando perché vuoi vendere i tuoi prodotti? O la tua realtà? Ok? Quindi nel mio caso, io voglio comunque far vedere ciò che faccio. Poi in realtà tutte queste cose per me sono interessanti, sono molto importanti. Perché no? Anche vendere la mia realtà, il mio lavoro, insomma, no? Lavorare sui social e anche non solo sui social, insomma. Quindi queste sono le prime domande che ti devi porre, no? Ti devi fare per capire poi il perché i risultati magari non arrivano. Magari c'è un qualcosa soltanto da sistemare, no? Una volta che avrai capito e compreso tutto questo, avrai fatto luce, potrai postare. Anzi, devi assolutamente postare. Un'altra cosa che mi ha fatto riflettere è che molti dicono, ma io ho i risultati, li voglio subito. No, 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 no. Non avere fretta. Non devi avere fretta. Devi essere solo costante e non avere assolutamente fretta. Perché i risultati all'inizio tarderanno ad arrivare, ma è normale. Saranno sicuramente anche altalenanti, si muoveranno. Magari farei un post che farà tanto, farei delle storie che faranno tantissimo, farei dei reel che faranno veramente numeri da circo. E magari quello successivo, che magari per te è più interessante, farà pochissimo. Ma non sei tu che lo devi decidere. È l'andamento delle persone che ti vengono a vedere, no? Che ti inizieranno a seguire. Un'altra cosa molto interessante è che tu in quel periodo ti stai centrando, stai ovviamente allineando, ti stai portando la linea al centro. Quindi ci saranno delle volte che posterai qualcosa e sarai un po' più a destra, un po' più a sinistra. Quindi dipende. Quindi piano piano incomincerai a focalizzarti sul tuo punto principale. Quindi questo non ti deve far spaventare se non hai ancora dei numeri. Ti deve spaventare se tu per un anno hai fatto di tutto o di più, pensi di aver fatto qualcosa di ovviamente giusto. Quindi vai ad analizzare quello che tu hai fatto fino ad ora. Quindi vedi un attimino, rivedi un attimino tutti i passi che tu hai fatto. E poi magari vagli a sistemare se questo è il tuo obiettivo. Ma la prima cosa che tu devi vedere, devi capire è perché posto, qual è il mio obiettivo. E da lì ti accorgerai quanto i tuoi contenuti incominceranno a funzionare, quanto le persone ti apprezzeranno. Io chiudo questa storia dandovi un consiglio. Quando fate i post, quando fate le storie, quando fate dei reels o un video, una live, date valore. Date valore, ma soprattutto metteteci il cuore. Perché le persone lo capiscono. Metteteci il cuore, siate voi stessi, dovete essere voi stessi. Sbagliate, pazienza. Le persone prima ci faranno anche una risata, si faranno una risata, pazienza. Ma metteteci il cuore, date valore. Le persone vi seguiranno se noteranno questo. Punto. Finito. Ok? Spero di esservi stato utile e ci vediamo al prossimo reel, alla prossima storia, al prossimo post. Vado avanti a preparare una formazione perché sennò stasera che cosa ti racconto ragazzi. A dopo. Ciao.